Buongiorno a tutti, io da come si vede sono Andrea Alberti, meglio conosciuto come Balone e comunque stasera avrei il piacere di invitare tutti i trapanesi, ma soprattutto tutti gli amanti della buona musica perché suonerò a Custonaci nella grotta Mangiapane. Il concetto è stato organizzato dalla associazione Museo Vivente di Custonaci e dal comune di Custonaci e quindi farò chiaramente della mia musica che sarebbe jazz mediterraneo in quanto sono 40 anni che propongo quello in giro per il mondo e mi fa piacere molto invitare tutti gli amanti della buona musica e spero di vedervi in molti, numerosi, dato che non capita spesso di suonare da queste parti purtroppo ma insomma è così, anche se devo dire che Trapani essendo una città di cultura insomma uno dovrebbe anche fare più cose, penso. Va bene, comunque ci vediamo tutti stasera, grazie e buongiorno a tutti. Erano 12 anni che Ubarone Alberti non si esibiva sul territorio trapanese e accadrà questa sera a Custonaci con per scena la grotta Mangiapane uno spettacolo di solo piano in cui il buon Andrea farà un viaggio nei 50 anni di musica da lui firmata e sempre ispirata alla nostra terra, ai suoi colori e alla sua armonia musica e sonorità che Alberti nei decenni ha portato in giro per il mondo dall'Europa fino al Giappone e stasera si torna a casa l'appuntamento è per le 21 alla grotta Mangiapane gli assenti avranno avuto torto musica e stasera si torna a casa